Appartenenza ed incontro sono due parole chiave per chi ogni anno decide di dedicare uno spazio delle proprie fere estive all'organizzazione, servizi e accoglienza al meeting di Rimini. La macchina organizzativa si mette in moto ben prima dell'inizio dell'evento ed intreccia diverse esperienze. L'organizzazione del meeting è un'organizzazione molto particolare perché ci sono una ventina di persone che lavorano stabilmente come dipendenti del meeting durante l'anno. Siamo organizzati in 16 dipartimenti che effettivamente costruiscono il meeting. La macchina poi diventa una macchina molto grande, molto importante perché si avvale della collaborazione di più di 3.000 volontari senza i quali il meeting non si potrebbe fare. L'esperienza del volontario al meeting coinvolge diverse generazioni dai 16 agli 80 anni ed oltre in un passaggio ideale e continuo di testimone. Chiunque visiti gli stand di Rimini non può non notare la loro presenza. La presenza dei volontari rappresenta veramente l'identità del meeting. Quest'anno forse per la prima volta, o è raro che accada, ma quest'anno è accaduto in maniera molto eclatante perché tutte le prime pagine dei quotidiani italiani, il giorno 25 di agosto hanno riportato un'immagine, una fotografia col presidente Draghi assieme circondato dai volontari. Circa 500 volontari vengono coinvolti nella fase preparatoria dell'evento, il pre-meeting, al termine del quale vengono consegnate le chiavi al direttore della fondazione. Queste sono le chiavi che vengono consegnate alla fine del pre-meeting, vengono riconsegnate al direttore e rappresentano un'edizione di meeting. Ciascuno porta a casa qualcosa di nuovo non scontato e non vissuto in precedenza. Mi porto a casa, primo il fatto che non esiste un già saputo e quindi la cosa che per me che faccio il meeting tutto l'anno è determinante è tenere gli occhi aperti ad accogliere la bellezza di quello che incontriamo durante l'anno e che poi vediamo durante la settimana e le settimane del meeting.